Un argomento di stretta attualità, quello che vogliamo affrontare questa mattina è i disturbi del comportamento alimentare che nei giovani sono in continua crescita nel nostro paese. Attualmente circa 3 milioni di persone in Italia combattono contro l'anoressia e la bulimia. E quando la fragilità adolescenziale si scontra con la diffusione attraverso i social di modelli estetici ed alimentari sbagliati ma considerati vincenti e di successo, l'effetto a macchia d'olio è inevitabile. Questo è il tema affrontato da Laura Dallaragione e Raffaella Vanzetta in Social Fame, Adolescenti, Social Media e Disturbi Alimentari, edizione Il Pensiero Scientifico. Un libro a più voci che racconta la battaglia quotidiana contro i disturbi alimentari, insidiose e devastanti e la realizzazione di un progetto di cura. Noi siamo collegati questa mattina appunto con la dottoressa Laura Dallaragione, psichiatra e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a voi. Grazie, grazie per essere con noi dottoressa. Allora partiamo dall'inizio. Qual è stato l'impulso che vi ha portato alla stesura di questo interessante libro? Ma in realtà ci siamo rese conto con la dottoressa Vanzetta, che è una psicoterapeuta come me, che la maggior parte delle nostre pazienti, anche piccolissime, 11, 12, 13 anni, avevano frequentato per molti mesi, per molte ore al giorno, i social media, le piattaforme, in particolare alcune principali piattaforme come Instagram e TikTok. E da lì avevano tratto spunto per alcuni comportamenti a rischio, come diete fai da te, come restrizioni, workout per dimagrire. E quindi da lì abbiamo capito che quello era un canale di cui dovevamo tenere conto e dovevamo capire soprattutto come funzionavano per aiutare i genitori, terapeuti e insegnanti a governare un po' insieme ai ragazzi, ai preadolescenti, questo tema. Ecco dottoressa, alla luce di quello che ha detto e anche dati alla mano, quindi i social sembrerebbero avere un potenziale ruolo nell'insorgenza dei disturbi alimentari? Sì, perché i principali temi dei social media sono due, e cioè l'immagine corporea levigata, photoshoppata, ora con l'intelligenza artificiale e l'alimentazione. Questi sono i due topics, i due argomenti dentro le piattaforme, che sono esattamente i due fattori di rischio per i disturbi alimentari, perché le ragazze e i ragazzi anche, perché i disturbi non riguardano solo le femmine ormai, si ispirano per appunto comportamenti rispetto all'immagine corporea e soprattutto rispetto all'alimentazione, con consigli abbastanza pericolosi e strampalati da parte di persone che spesso non hanno nessuna laurea, ma aprono una pagina Instagram e danno consigli dietetici e nutrizionali. Proprio per questo motivo i social sono una cassa di risonanza straordinaria, purtroppo sia per messaggi di tipo positivo, ma anche purtroppo, come stiamo ascoltando, di tipo negativo. Dunque la marea di informazioni a cui i nostri ragazzi, giovanissimi, sono esposti, potremmo dire, dottoressa, che diventa un fattore di rischio? Lo è, perché senza ovviamente criminalizzare i social, che sono comunque uno strumento, noi in questo momento ne stiamo usando uno, quindi comunque sono diventate la nostra quotidianità e non possiamo sicuramente eliminarli, sarebbe come dire scendiamo da un treno in corsa, questa è la nostra realtà, però dobbiamo imparare a governarli, perché in realtà anche i cosiddetti nativi digitali, i cosiddetti bambini e gli adolescenti che sono nati già con il telefonino in mano, non sono così padroni del mezzo, come si penserebbe, perché non hanno la consapevolezza dell'impatto emotivo e dell'effetto che hanno su di loro dal punto di vista emotivo e cognitivo, quindi diciamo sicuramente senza un governo da parte degli adulti possono diventare un grandissimo fattore di rischio, lo sono già. Sono un fattore di rischio, quindi da una parte i social che veicolano messaggi distorti, dall'altra però i social allo stesso tempo possono diventare veicoli di messaggi positivi, di divulgazione positiva, esatta, corretta? Assolutamente sì, ci sono moltissime pagine cosiddette di ricoveri, cioè di guarigione, cioè di persone che magari sono guarite dall'anoressia e dalla bulimia e che aprono una pagina per dare consigli su come chiedere aiuto, su come farsi aiutare e comunque ormai anche tutti noi terapeuti usiamo i social per diffondere dei messaggi, perché teniamo conto che i ragazzi non guardano più la televisione e non leggono i giornali, quindi i canali, i canali media, sono i canali attraverso i quali noi possiamo far arrivare anche dei messaggi positivi. Dottoressa, lei all'inizio ha detto una cosa molto interessante, che purtroppo oggi i social ci veicolano anche dei messaggi distorti causati anche dall'intelligenza artificiale che vede un po' photoshopare le immagini, cioè renderci in qualche maniera più belli. Ecco, se questo è un punto di vista tecnologico, purtroppo tanti ragazzi poi non sono preparati dal punto di vista emotivo ad affrontare quelle che possono essere anche delle debolezze o comunque, come dire, una bellezza che poi non traspare effettivamente. Allora, come possiamo educare i nostri ragazzi dal punto di vista emotivo, a farli capire che effettivamente quello che i social veicolano non è la verità al 100%, potremmo dire così, ma una parte che tante volte poi passa per la verità assoluta. Beh, sicuramente la manipolazione dell'immagine dei video attraverso i social media ha determinato un aumento enorme dell'insoddisfazione corporea, che è uno dei moventi poi della sofferenza di tantissimi adolescenti. L'intelligenza artificiale ha complicato ulteriormente perché con quella noi siamo in grado di costruire immagini di noi stessi assolutamente appunto artificiali e irreali. Poi nella realtà ovviamente c'è la difficoltà di accettare l'immagine vera, che è fatta di bellezza ma anche di tanti piccoli grandi difetti che sono la nostra caratteristica. Beh, bisogna lavorarci, io credo che la scuola per esempio debba lavorare su questo. Nel libro per esempio noi dedichiamo una parte alla prevenzione e soprattutto dedicata alle scuole con degli workshop che consigliamo di fare agli insegnanti proprio per lavorare sull'insoddisfazione corporea, su quello che vuol dire essere reali ed essere virtuali, perché molto spesso i ragazzi diciamo perdono di vista questa differenza e si richiudono in casa, perché è chiaro che è più facile nascondersi dietro uno schermo e mandare di sé un'immagine alterata, però più bella, più accattivante. Quindi lavoriamo in famiglia e lavoriamo nelle scuole perché l'insoddisfazione corporea sarà fortissima, soprattutto con l'intelligenza artificiale. Ecco, parlava della collaborazione con la famiglia, la collaborazione con la scuola e lei fa riferimento a quello che appunto nel libro citate, l'importanza di inserire come materia scolastica proprio l'alfabetizzazione digitale emotiva. Sì esatto, noi lo consigliamo perché già questa esperienza è stata fatta in alcune altre città e anche europee. Consigliamo di inserirla come materia scolastica, come se fosse la storia, la geografia, il latino, l'italiano, perché in questo momento l'alfabetizzazione digitale è la garanzia di proteggere, di dare degli elementi critici ai ragazzi. L'alfabetizzazione digitale non vuol dire la padronanza del mezzo, che loro peraltro hanno già altissima, più di noi, ma significa dare loro gli strumenti per capire l'impatto emotivo appunto che questo mezzo può avere su di loro. Quindi capire perché le immagini possono essere accattivanti, qual è la verità, riconoscere ad esempio le fake news dalle notizie vere e dalle notizie false. Quindi su questo si può fare moltissimo e la scuola dovrebbe dedicargli uno spazio dedicato. Ad esempio noi lo facciamo anche dentro i centri che io dirigo, noi facciamo un gruppo che è un gruppo social, in cui parliamo con le ragazze di che cosa vedono, di che cosa gli piace dentro le piattaforme, del perché gli piace, di quali sono i messaggi negativi e positivi. Io consiglio ai genitori ormai di non chiedere più che cosa hai fatto oggi, ma chiediamogli che cosa hai visto oggi in internet. Parliamo con loro di questo. E soprattutto per concludere, dottoressa, mi piace anche riprendere un passaggio della sua prima risposta quando lei dice che effettivamente i nostri ragazzi purtroppo si collegano molto spesso a pagine o profili di gente che non ha nessun tipo di competenza dal punto di vista alimentare, ma è un concetto che potremmo tranquillamente allargare. Dunque attenzione anche ovviamente a chi si va a visitare, perché non tutti, come dire, hanno le competenze necessarie per poter dare un consiglio che sia esso sanitario o anche emotivo psicologico. Esattamente, questo infatti è un po' uno dei grandi problemi che andrà normato in qualche modo, perché ci sono persone che non hanno laurea, che non sono iscritti a nessun ordine e che ad esempio danno consigli di tipo psicologico e di tipo nutrizionale e hanno moltissimo seguito, moltissimi followers. Quindi questo significa che noi dobbiamo trovare una normativa, perché così come io per aprire uno studio devo avere dei titoli e devo avere un'iscrizione all'ordine, devo avere delle caratteristiche, anche per lavorare in internet dovrei averle. In questo momento non è così, quindi dovremo lavorarci su questo. Va colmato questo vuoto. Dottoressa Dallaragione, la ringraziamo di cuore per essere stata con noi. Ricordiamo il titolo del libro, Social Feim, Adolescenza, Social Media e Disturbi Alimentari, il Pensiero Scientifico Editore, la ringraziamo. Ricordiamo anche che il 15 marzo è la giornata dedicata ai disturbi alimentari, quindi immagino che sarete, lei e la dottoressa Vanzetta, sarete impegnate appunto in un percorso di divulgazione e di sensibilizzazione sul tema. Grazie, grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro. Ci torniamo per la pubblicità, Paola, facciamo qualche istante di pausa e poi ritorneremo ancora insieme.